L'INP ritiene che sia importante rifondare il patto educativo tra scuola e famiglia. Abbiamo assistito negli ultimi mesi a troppi episodi di violenza, di bullismo e addirittura di aggressione ad alcuni docenti ed è un qualche cosa che non possiamo accettare. È stata risulta minata alla base questa sacralità della figura del docente e della scuola come istituzione pubblica, né possiamo adagiarci sul fatto che episodi di questo tipo avvengano anche in altri campi come per esempio nei confronti degli operatori sanitari, quindi è necessario davvero che genitori, insegnanti, presidi e alunni si pongano delle domande. Noi riteniamo che il ruolo della scuola sia fondamentale e sia strategico perché la scuola ha nelle mani il futuro della nazione. Come presidi, come dirigenti scolastici siamo assolutamente disponibili a fare tutto il possibile affinché questo avvenga e affinché si rifondi il rapporto tra queste istituzioni, cioè la famiglia e la scuola.